Fa discutere l'annuncio del ministro Patrizio Bianchi sulla revisione dei programmi degli istituti tecnici in cui potrebbe essere introdotto anche l'insegnamento della filosofia. C'è chi sostiene che in fondo la filosofia non è altro che una disciplina che aiuta a ragionare e ad argomentare e quindi dovrebbe essere per tutti gli studenti della scuola secondaria. D'altronde non da oggi sono diffuse in molte scuole di primaria e persino di infanzia esperienze di insegnamento della filosofia rivolte anche ai bambini. Ma qui bisogna fare una precisazione importante. Si tratta di esperienze in cui la filosofia viene insegnata in modo del tutto diverso rispetto al metodo tradizionale. Come si sa i programmi di filosofia dei licei prevedono di fatto l'insegnamento della storia del pensiero filosofico. Si inizia il primo anno con lo studio dei filosofi presocratici e si conclude il terzo anno con la filosofia del Novecento. Ma non è l'unica strada possibile. In altri paesi, per esempio in Francia, la filosofia viene presentata e studiata con riferimento a temi e problemi specifici. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui non tutti sono d'accordo con la proposta di Bianchi. Ci sono esperti che sostengono che se bisogna insegnare agli studenti a ragionare e ad argomentare, non c'è nessun bisogno di introdurre anche nei tecnici una nuova disciplina. Ma basterebbe rivedere i piani di studio e soprattutto i contenuti di materie già previste, che potrebbero dare un contributo importante in questa direzione. Come per esempio la storia, la letteratura italiana e ovviamente anche la matematica e la fisica. I più critici vanno ancora più a fondo e sostengono che la secondaria di secondo grado avrebbe bisogno di interventi di ben altro spessore. Ci sono poi associazioni professionali, come il CIDI, che da anni chiedono una revisione complessiva dei piani di studio, che prevedano un curriculum verticale unitario che comprenda tutta la fascia dell'obbligo e anche la scuola dell'infanzia. Sul Corriere della Sera di recente è intervenuto su questi temi Ferruccio Resta, presidente dei direttori italiani alla guida del Politecnico di Milano, che ha dichiarato «innanzitutto va ricordato che i grandi filosofi in genere erano anche grandi matematici, dunque non c'è una divisione tra filosofia e tecnica. In secondo luogo lo sviluppo del pensiero e l'elasticità mentale sono oggi due caratteristiche fondamentali nel mondo del lavoro a qualsiasi livello». Ma andando più a fondo nella questione ci si imbatte anche in dei paradossi, ci fa notare la direttrice scolastica dell'Istituto Tecnico Agrario Sereni di Roma, la quale entra nel merito della questione e spiega «a me sembra che prima di pensare a introdurre un'altra disciplina del tutto nuova, bisognerebbe forse pensare a ripristinare le ore tolte nei tecnici con la riforma di dieci anni fa. Negli agrari per esempio, ed è questo il paradosso, sono state eliminate sia la botanica sia la meccanica. Peraltro ci ricorda l'Italia il secondo produttore al mondo di macchine agricole. Siamo un'assoluta eccellenza in questi campi, ma se si riducono le ore delle discipline tecniche rischiamo di arretrare». Ma c'è un problema di non poco conto. Nel PNRR si parla proprio di riforma complessiva del sistema scolastico, operazione per la quale sono previste ingenti risorse. Su come usarle si inizierà a discutere nelle prossime settimane, ma bisogna dire subito che è indispensabile che il dibattito coinvolga direttamente il mondo della scuola, in modo da spendere bene i soldi del piano e riformare seriamente i percorsi liceali, tecnici e professionali. Su questo tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati. Seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.